Buongiorno, sono Alex Blanos, Sales Board Manager per M-Cube. M-Cube è la società leader nell'ambito delle soluzioni di e-store marketing in Italia e worldwide. Siamo qui all'International Scala Conference, che è un evento quest'anno molto importante, rispetto agli anni scorsi sono state presentate molte più soluzioni. È stata presentata la nuova piattaforma Scala Enterprise e abbiamo visto anche molti case studies interessanti a livello worldwide, a livello di gestione completa a partire dall'installazione, alla gestione dei contenuti. Quindi Scala che punta non soltanto su un software, ma su un servizio completo per i suoi clienti. In queste due giorni di Scala International Conference abbiamo visto come sta cambiando, come sta evolvendo il mercato di digital signature a livello worldwide. Non si tratta più soltanto di una mera gestione di un software, ma Scala sta diventando qualcosa di più. Sta diventando un servizio completo verso il cliente che riesce a gestire tutta la parte di comunicazione, dalla parte di analisi, di installazione, di cercare di capire le esigenze del cliente, fino alla parte di gestione dei contenuti. Non stiamo parlando più di un software, stiamo parlando di Scala Enterprise come un'idea, come un servizio completo, worldwide, verso il cliente. Grazie a tutti.